Ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale. Oggi da come avete potuto vedere grazie a Konami siamo qui con l'opening di uno dei prodotti più attesi di quest'anno. Ovviamente ragazzi però prima di iniziare andrei a vedere sul retro cosa possiamo trovare. Ah ovviamente non l'ho detto prima ma ringrazio ovviamente Konami per darmi la possibilità di aprire questi prodotti in anteprima perché non è una cosa scontata. Però detto questo andiamo a vedere cosa possiamo trovare. Apriamolo almeno così togliamo la plastica che c'è fuori e leggiamoci cosa c'è scritto dietro. Ogni mega team contiene tre diversi mega pack da 18 carte. Ogni mega pack è pieno di carte di sette di espansione come battaglia del caos, forza dimensionale, potere degli elementi, esplosione all'oscura, maestro di tattica, i grandiosi creatori, più carte addizionali nelle rarità, rara segreta prismatica, ultra rara, super rara, rara e comune. In più come bonus speciale otterrai uno dei mostri visti sui lati di questi team. Come carta rara segreta quarto di secolo esclusiva per l'anniversario. Quindi abbiamo la possibilità di trovare il mago nero, Exodia, drago nero, drago arcobaleno, cyber drago, Neos, poi U, drago polveri di stelle, maestro armatura alla nera che questo sarebbe incredibile visto che non ha ristampa da veramente tanto tempo, drago rosa nera, utopia, drago fotonico occhi galattici, poi ovviamente tanti altri, da come potete vedere. Allora andiamo con il primo e abbiamo come promo decodificatore trasmittente. Molto bellina la carta con questa olografia e ovviamente con il logo del 25esimo anniversario qua. Poi vediamo cosa riusciamo a trovare nel secondo, spero ovviamente non lo stesso perché vorrei farvi vedere anche le altre carte. Andiamo con i primi tre pacchetti. Andiamo con il primo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Diciamo che considerando le espansioni che verranno stampate all'interno dei team, come abbiamo detto prima, ci sono tantissime carte interessanti, come ad esempio i Therion oppure i Mostri Vistial, ma non voglio spoilerarvi niente e andiamo a vedere insieme. Allora abbiamo radiazione ursartica, prevenzione libromante, marre e mare supremo, cavaliere gemma lady diamante rosa, ecco il primo Therion come vi dicevo, eccolo, non è Regulus però va bene. Poi abbiamo subito una ultra, abbiamo S-Forza Lap Chewell, poi un'altra ultra che è libromante ragazzo secchione e dietro ci dovrebbe essere la Secret. Abbiamo come Secret alla nera vata l'emblema del vagabondante. Visto che nel pacchetto esplosione alla oscura questa usciva super rara. Poi andiamo avanti abbiamo il Lega Oscurità, Dunel, le nobili armi, Ritornia, Esosorella, Vortice Piuma Nera che anche questa usciva super rara, Sega Gemella, Paventa Artiglio, Burrasca Ombra Nera e Rex, Carico Pelliccia Mercenaria. Andiamo col prossimo, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa a tema cashtira, come ad esempio Unicorno o Fenrir. Staremo a vedere adesso, poi anche per capire un po' le rarità di queste case. Abbiamo Culla Enion, un'altra carta Libro Mancer, Haka il Compagno delle Fiamme, carta Ghiacciogiada che se non ricordo male era in versione Secret, poi Preda Pianta Triantis, Zombie Resuscitato, Convertitore Morfotronico come prima Super, andiamo all'Ultra, vediamo cosa troviamo, Alanera Albalenatus, molto bellino che questo se non ricordo male usciva in forza dimensionale l'anno scorso in versione rara segreta e prismatica. Poi abbiamo un Drago Immortale, come prossima carta che era Secret abbiamo Magikuribo, molto bellino anche questo, così foil, e come ultima Secret abbiamo Cashtira Unicorno, come mi è andato anche abbastanza bene. Me l'ero effettivamente proprio chiamata, quindi top, per a questo punto di trovare anche Fenrir nei prossimi pacchetti. Adesso andiamo avanti, abbiamo Esosorella Asophel come rara, poi Labrinto Kuro Orologio, Arte Ingizio delle Foglie Danzanti, Arti Segreti Amazones, GT19, Papillon Luce Stella e Maestria della Foresta d'Oro. Bene, bene, questo secondo pack ha dato veramente tante gioie. Adesso vediamo il terzo, poi ci andiamo ad aprire il secondo team. Allora, andiamo a vedere e vediamo cosa riusciamo a trovare qua. Abbiamo Terrori nella città nascosta, Proga Gandache, poi Cartamelfi, molto carina, poi abbiamo Contratto Scuro con la licenza di Prevetto, Diddy Grifone, Guscio Dinomorfia, dai andiamo alle Super, Eka il Compagno delle Fiamme che abbiamo già visto, Lupo Silente, Calupo, poi come Ultra abbiamo un'altra alla nera, che anche questo se non ricordo male era super raro, poi abbiamo come altra ultra un'altra alla nera, abbiamo alla nera Borea Tempesta, anche questo molto carino, poi, oh, Rito di Aramesis, carta fortissima, sono molto contento di averla trovata. Ragazzi, un consiglio, quando uscita il prodotto, se vi capita di trovarla, tenetela perché il suo reparto è veramente tanto forte e vi dà una negazione sul terreno, quindi diciamo che vi potrebbe fare sempre comodo. Adesso andiamo a vedere la seconda Secret, abbiamo, oh, anche Regulus, che bello! Anche questa carta molto utile per i mazzi macchina che poi anche ultimamente si è giocata, quindi io anche questa la terrei da parte. Poi andando avanti abbiamo Moonin, che era carta Runic, poi Labrinto Condagliere, Dispersione Runic, praticamente hanno ristampato più buoni tutti i Runic. Adesso diciamo che è da vedere Fontana, in che rarità l'hanno fatta. Poi abbiamo Labrinto, come prossimo abbiamo Tobari e basta. Bene, bene, sono molto soddisfatto, anzi il Tin è andato meglio di quanto mi aspettasse. Allora, andiamo col prossimo, vediamo cosa riusciamo a trovare, spero di riuscire a fare ancora meglio. Adesso non so cosa possiamo trovare. Se devo chiamarmene una di prismatica, diciamo che mi piacerebbe molto trovare il Maestro Armatura La Nera, il Polvere o il Mago Nero. Mettiamola così. Vediamo se riesco anche a questo giro a trovare quello che voglio. La Rosa Nera va benissimo, va benissimo così. Anche questa ragazzi, carta senza senso, con logo del 25esimo, assolutamente approvata. Andiamo adesso con i tre pacchetti e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Abbiamo Rosa Brillante, poi un'altra carta ghiaccioggiata, Xyz Eclusione, poi Scavalcamento Spaventa Artiglio, Previsione Meteorologica, poi abbiamo Prevenzione Libromante, Cartadino Morfia, che entra in regina. Poi andiamo adesso dietro con le Ultra. Abbiamo Caricaterion, ok, altra carta Terion che usciva super. Poi abbiamo Dark, ultra raro, molto bellino, che da noi in Battaglia del Caos usciva super rara, quindi ci sta l'aumento di rarità. Poi abbiamo... Oh! Come Secret anche Ferrir. Ragazzi, trovate tutte e due. Perfetto. Che bello poi, Secret così. Molto più bella rispetto a quella Ultra. Non ci si può fare niente. Vediamo come altre Secret cosa abbiamo. Abbiamo un altro alla nera. Abbiamo Shamal la Tempesta di Sabia. Ok. Però, diciamo, abbiamo Trotto Ferri, quindi va benissimo. Diciamo che chi si è montato alla nera adesso può aumentare la rarità praticamente di quasi tutto. Mettiamola così. Abbiamo Soffi di Resurrezione, Declino Spaventa Artigli, Archidemoni e Simul, Arti Segreti Amazzones, Papillon e Dunel, che abbiamo già visto. Andiamo col penultimo e vediamo se la fortuna ci assiste ancora. Abbiamo Acro, Dislocazione Libromante, Ghiaccio Giada Creazione Martin, Erosione Ghiaccio Giada, Combinazione Xyz, Carta Melfi, dai dai dai. Prenesia di Nomorfia. Adesso qua dietro c'è la Ultra. Allora abbiamo Carta Amazzones, la Spiritualista. Come altra Ultra abbiamo... Oh! Cavaliere del Grifone Vagante, che questa esisteva solo in versione Super. Vediamo come Secret. Abbiamo Drago Fusione, Preda Potere e Vereno Affamato. Anche questa non è male da tirare con Super Polimerizzazione. E poi come ultima abbiamo... Oh! Anche Illusione del Caos. Ottima carta che ovviamente non si gioca solo in Mago Nero. Veramente top come Sbustata, assolutamente. Poi abbiamo Esosorella Asofiel, Rituale del Mondo Sotterraneo, Terrori Sopra le Radici, Dracobac, il Drago Cavalcabili, Grafica Labrinto, Tempesta Punitrice Runic e Vadis. Andiamo con l'ultimo e a questo punto vediamo se riusciamo a trovare qualche carta rara di Runic. Abbiamo Realizzazione Libromante, Allerta Dinomorfia, Altra carta Libromante, Eka, poi abbiamo Melphi Walli, Terion Imperatrice Alasia, Felicità delle Bambole, poi vediamo come oltre che abbiamo. Un'altra la nera, Zonda il Crepuscolo. Ragazzi, tutto realizzato l'hanno fatto. Poi abbiamo Affascinato, che questa qui usciva a Secret da noi. E come Secret abbiamo... Oh! Cascitira Orco, va bene. Le abbiamo trovati tutti adesso. E per concludere abbiamo Pianeta Primitivo Recupero Morfia, ovvero la Terreno Visas. Va benissimo, assolutamente. Vabbè, come altre carte abbiamo poi Donner, come rara, poi Arte Ninjitsu delle Foglie Danzanti, Terrori Sopra Le Radici, Interferenza Cifra, Draco Beck il Drago Cavalcabile, Nobile Cavaliere Custanin e Cravler Ricettore. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente se lo acquisterete o meno. Ovviamente come sempre ringrazio Konami per l'opportunità che mi ha dato e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!